Campionato di prima categoria, girone B, tredicesima giornata, si affrontano il Vitellino e il Via Larga Marciano. Vitellino a quota 17 punti, Via Larga Marciano in zona playoff con 21 punti. La partita comincia ed è subito il Via Larga Marciano che si fa vedere in avanti con un cross dalla sinistra, la palla che attraversa tutto l'area e arriva il gol del vantaggio da parte del numero 11, Calistroni. Via Larga Marciano in vantaggio, dopo pochi minuti dall'avvio risponde subito però il Vitellino con il tocco vincente di Scarpelli. Pallonetto 1-1, bruciato Maitelli in uscita. Pareggia subito il Vitellino che poi prova a cercare il gol del vantaggio, qui un colpo di testa da parte di Stojan che però termina alto. Ci prova ancora il Via Larga Marciano a farsi vedere in avanti, lotta, Calistroni in area, calcia con il destro, a dire di no al numero 11, già andato in gol, Calistroni ancora nel primo tempo attacca il Vitellino, qui gran finta da parte di Giardino e conclusione dalla lunga distanza di Magionami. Palla che termina sul fondo non di molto, torna a farsi vedere in avanti anche il Via Larga Marciano, imbucata per tre quattrini che si scontra con un difensore in area di rigore, intervento regolare e pulito da parte della difesa del Vitellino. Ci prova ancora poi il Via Larga Marciano, qui una conclusione debole da parte del numero 10 Biscarini che viene bloccata senza problemi da Spadoni. Partita molto equilibrata e combattuta, l'intervallo è 1-1 tra Vitellino e Via Larga Marciano. Nella ripresa parte forte il Vitellino, ci prova Palasco che si infine nel rigore, poi sbaglia però col sinistro, blocca a terra Mattelli, anche la Marciano una grande chance. Conclusione che si stampa sulla traversa da parte del numero 18 Sensini, grandissima chance per gli ospiti di riportarsi in vantaggio. Poi altro calcio di punizione per il Via Larga Marciano, smanaccia Spadoni in tuffo con un pugno. Partita accesa più che mai, qui retropassaggio pericolosissimo. Vitellino da parte di Taglia, che mette in difficoltà Mattelli che deve spazzare in fallo laterale. Vitellino che rimane in avanti e cerca il gol del 2-1. Qui incursione sulla destra dalla linea di fondo, diventa quasi un tiro. Il tentativo però termina sul fondo, si rimane 1-1. Partita che non si sblocca, nessuno riesce a trovare il gol del vantaggio. Ci prova il Via Larga Marciano con un cross da calcio d'angolo. La palla che viene allontanata momentaneamente dalla difesa del Vitellino. Ci prova ancora la squadra ospite con un altro cross che viene deviato ancora in corner a serie finale da parte del Via Larga Marciano. Ma ci prova anche il Vitellino con un calcio di punizione messo in area di rigore. Tutto solo colpisce di testa Nardelli. Palla centrale però riesce a bloccare Mattelli. Viene anche allontanato l'allenatore del Via Larga Marciano per proteste. Allontanato dal direttore di gara nei minuti di finali. Si resta 1-1. Ci prova nel finale il Vitellino. Altro colpo di testa che sfiora il palo e va sul fondo. Grandissima chance per i padroni di casa di portarsi in vantaggio. E non è però l'ultima. Altra punizione messa in area. Blocca senza problemi Mattelli. Incontro che dunque termina 1-1. Io penso che chi ha visto la partita è rimasto abbastanza soddisfatto e contento. Abbiamo giocato bene. Pareggio sì. Ma a noi ci sta molto 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 stretto. Questa era una partita da vincere. Potevamo per noi sul campo è vinta. Ma non è che voglio reclamare il rigore quindi nettissimo. E poi come si vede abbiamo mangiato sbagliato un gol fatto. Sono contento. Quindi i ragazzi ce l'hanno messa tutto. Stiamo crescendo. Speriamo che nel girone di ritorno siamo una squadra più compatta. Speriamo bene. Comunque sono abbastanza soddisfatto. Io e la società. Siamo in crescita. Abbiamo giocato mi sembra abbastanza bene. I tifosi sono soddisfatti. La dirigenza è soddisfatta. E i giocatori anche un po' delusi perché dovevamo prendere qualcosa di più. Dopo 4-1 del passignato dove abbiamo giocato una grande partita al primo tempo. Poi purtroppo nel secondo ci sono stati degli errori. Ma questo nel calcio ci sta. No, diciamo una partita molto equilibrata. Piena di occasioni da una parte e dall'altra. Molto accesa sulle seconde palle soprattutto. Poteva finire con una vittoria sia da una parte che dall'altra. Usciamo con un bel punto secondo me perché loro sono veramente una bella squadra. E noi purtroppo è un momento che siamo falcidiati un pochino dagli infortuni. però facendo gruppo ci alleniamo bene quindi il risultato viene sempre.